Grazie a tutti. Il sito è naturalmente ricco di informazioni, ma voglio sottolineare due elementi in fondo alla pagina. Per primo vedremo Esplora le funzioni. Si tratta di suggerimenti navigabili in ordine alfabetico, per categoria o per tipo di funzione. Sono molto utili ed estremamente brevi. Questa sera abbiamo giocato con gli acceleratori di Internet Explorer 8. Ecco qui un breve rissunto sugli acceleratori. Se volete conoscere maggiori dettagli di una funzione, ad esempio che cosa cliccare per eseguirla, selezionate Utilizzare Windows 7 in fondo alla pagina. Otterrete così informazioni più dettagliate su tutte le funzioni. Ad esempio ecco un approfondimento sugli acceleratori. Naturalmente è anche possibile digitare quello che si sta cercando nella finestra di ricerca acceleratori o qualsiasi altra cosa. Curiosate nella guida a istruzioni pratiche di Windows e imparerete molto. Kelly, tu mi avevi fatto una domanda sulle slice. La tua risposta è probabilmente qui dentro. Nei prossimi giorni riceverete un link a una serie di video riguardanti altre attività che si sono svolte durante altre feste. Non saranno certo divertenti come le nostre, ovviamente. Il padrone di casa non sarà certo bello quanto me, ma potrete vedere cosa succede ad altre feste di presentazione in tutto il mondo. Ehi, vi voglio ringraziare per essere venuti questa sera. Ho dei regalini per voi, quindi passate da me prima di andarvene.